buongiorno sono celeste dell'azienda for all e sono venuta ad intervistarla buongiorno mi fa molto piacere sono fabio mi serviva una connessione internet perché prima senza sinceramente c'è una connessione internet non si può fare niente per lavoro scuola quello che serve perché tra tanti ha scelto for all avevo provato altre compagnie non mi trovavo non mi trovavo bene come tutte le cose all'inizio se ne conosci l'azienda roba sei un po titubante hanno dato una fiera a porto e nonna dell'elettronica ho visto il banchetto dei wifi for all o sono andato ho parlato con un tecnico e da lì ci siamo messi d'accordo detto va bene veniamo un giorno sei a casa da lì è partito sono venuti hanno cominciato a montare la parabola sono partito col 30 radio della for all poi usato più avanti 50 100 e via mi trovo molto bene cosa contraddistingue secondo lei for all dagli altri operatori allora innanzitutto for all dagli altri operatori distingue dalla da come quello che dicono è vero fanno che facendo anche speed test funziona faccio un esempio io in casa quello che ho i 100 mega sono veramente veritieri funziona molto bene sia dal streaming dal lavoro per il computer altre cose insomma fortunatamente posso dire ho conosciuto la vostra azienda mi trovo molto bene anzi posso dire peccato non ve l'ho conosciuta prima che mi serviva e no sappiamo che lei è un cliente molto attivo online e anche sui social ma come mai secondo me la migliore pubblicità il passaparola oppure fare una pubblicità siccome che un'azienda che lavora che lavora molto bene agente professionalità sia tecnica nel commerciale è giusto fare pubblicità che passare un amico chi che è un'azienda for all perché lavora molto bene sia nel territorio che anche dai clienti quali parole utilizzerebbe per raccomandarsi a un suo amico professionalità qualità si fanno sentire molto un cliente cioè in famiglia e soprattutto mantengono quello che dicono quindi promesso e connesso perché sinceramente è la verità